I federissimi giallorossi gridavano durante la partita rivolgendosi ai propri giocatori serie B, serie B. Ora sentire un grido così amaro dai federissimi della curva sud è abbastanza emblematico, ma questa crisi della Roma viene proprio dagli uomini migliori, quelli che dovevano rappresentare la base. Un Paolo Conti, reduce da un infortunio, un mezzo infortunio, la domenica scorsa contro il Catanzaro, oggi ha avuto un altro incidente, sembrava una parata facilissima sul tiro di testa di Graziani, che è tornata al gol dopo mille minuti, ebbene il portiere ha sbagliato, non ha fermato la palla e gli è sfuggita attraverso le gambe. Una golla incredibile che ha messo in ginocchio la Roma. Del resto poi lo stesso Di Bartolomei non è stato capace di interpretare il ruolo di desisti e Prus è stato costretto anche a uscire dal capo per un infortunio alla gamba. Il Torino da parte sua ne ha approfittato di una Roma così povera, così povera di caratura tecnica e quindi con un gol per tempo ha portato a casa il risultato. Radice uscirà prima dalla convalescenza, gli facciamo i nostri auguri al bravo tecnico Granata, però quando tornerà sicuramente avrà da fare perché il Torino non è il Torino, e Betempi ha ancora molte cose da rivedere. Abbiamo visto soprattutto un grosso Pecci e un buon Pulici, lo stesso Graziani ha dato al gol, ma non si muove ancora come Betempi. Ma vediamo adesso i due gol del Torino, soprattutto l'incidente capitato a Paolo Conti al primo tempo. Aspettiamo ora le immagini che ci manda la regia. Ecco, su calcio d'angolo calciato da Sala salta Graziani, ma Conti, vedete, aveva fermato il pallone per palleggiare. Ed ecco il secondo gol di Pecci alla fine del secondo tempo. La Roma stava cercando il pareggio, ma il Torino l'ha beffato doppiando il risultato. Quindi Torino batte Roma 2-0, una Roma in piena crisi.